Dove arrivi? Nei camini delle vostre case Allo sport park Quando? Il giorno di Natale, 25 dicembre a mezzanotte Tutti i giorni, fino al 14 gennaio alle ore 21 Cosa porti? Giocattoli Giocattoli, salami, prosciutti, formaggi, elettrodomestici, televisori, smartphone Per chi? Per tutti i bambini e tutte le bambine Bambini, bambini, uomini, donne, anziani, uomini... Senti, la tombola allo sport park la faccio io quest'anno Tutti i giorni, fino al 14 gennaio alle ore 21 I festivi, anche dal pomeriggio Tini, vai a cambiarti